Si arricchisce di un concerto in più il cartellone 2016 della stagione sinfonica del Teatro della Fortuna. È nata infatti una nuova collaborazione tra la Fondazione e l'Orchestra Sinfonica Rossini, dalla quale è nato un programma che prevede quattro date da gennaio ad aprile, con l'obiettivo di creare un unico bacino d'utenza rivolto all'intero territorio provinciale. Questo possiamo farlo anche grazie ai buoni risultati che sia il Teatro della Fortuna che l'Orchestra Rossini ha ottenuto dal FUS, dal Fondo Unico dello Spettacolo, che ha riconosciuto eccellenze queste due istituzioni, elevando il contributo che erano stati assegnati negli anni scorsi. Per cui vi aspettiamo tutti a teatro per divertirvi e rasserenare gli animi. Dopo il tradizionale appuntamento di Capodanno alle ore 17, è in programma per il 5 febbraio un concerto dedicato al compositore Antonin Vorgiak per il 21 il triennio rossiniano, con le più belle sinfonie eseguite da Maria Leida, mentre Queen Sinfonis il 13 aprile chiuderà questa stagione con i più grandi successi del mitico gruppo inglese. Quest'anno partiamo col botto, proprio perché abbiamo ingaggiato l'artista del momento, ed è Nicola Laimo, baritono di fama internazionale, che è uscito trionfatore dall'ultimo Rossini Opera Festival e anche dal teatro alla scala con Falstaff. Quindi avremo a Fano uno degli artisti più importanti attualmente al mondo. Ovviamente si occuperà del bel canto, di arie come Non più andrai Farfallone Moroso, di Mozart, Costa Grazia e sta portata di Rossini dalla Gazzetta, Udite udite e urustici dall'Elisir d'Amore, La Calugna dal barbiere di Siviglia e poi ci saranno anche dei bis che ovviamente non possiamo annunciare. Siamo contentissimi, l'orchestra investe in questa iniziativa, Sinfonica 3.0 partita quattro anni fa a Pesaro, oggi a Proda anche a Fano, quindi è un'espansione dovuta anche alle persone che ci hanno dato fiducia.